Ah, ecco che ti chissà! Quale è uno e dì ciao Simone! Ciao Simone! Simone chi? Simone, l'assessore al turismo Ciao Simone, ciao Luigi, ciao Mara Ciao! Isabel Isabel Ilen Ilen Idarmi Idarmi Ciao Milagio Ciao Giovanni Ciao Sindaco Si, è bellissimo Si, è bellissimo Si, è bellissimo Si, è bellissimo